Balla a tutti ragazzi, qui è Ersato e iniziamo subito con il grande hotel del Napoli. Avete capito bene, adesso zoomeremo sul logo del Napoli, eccolo qua, ovviamente, probabilmente, è solo una coincidenza, peccato che nell'hotel non si possa entrare, lo potete trovare vicino all'inconfordibile Middle Park, diciamo in parallelo a questo ristorante qua. Quindi è molto facile da trovare, ci mettete due secondi e passiamo al successivo. Dovrete andare al Luna Park abbandonato che si trova vicino al Bullying. Ecco, scavalcate questa recensione che si trova sul retro E dovete salire su questa specie di giostra, diciamo, eccola qua. E come potete vedere, qui troviamo questa panoramica su Winewood, Winewood, quello che è. E di qua troviamo, vedi, già vedi. Qui di qua troviamo l'aereo dei grattacieli e queste immagini sono presenti anche nel trailer di GTA V. Non molto lontano da lì, ecco qua, più vicino al Molo, troverete i graffiti di Cop2. Vi ricordate chi è Cop2? Beh, l'abbiamo incontrato pure in Gatti Gap ed è un leggendone dei graffiti. Per oggi è tutto ragazzi e alla prossima.